due brevissimi argomenti trattati all'interno di questo videozzo come state mi auguro bene primo argomento per quanto riguarda le sponsorizzazioni sono rivolte a chi ha un canale youtube mandatemelo in questo formato 16 noni fate gli auguri di buon natale felice anno nuovo comunque non lo posterò adesso ma lo posterò poco prima di natale quando caricherete lo stesso caricatelo non in elenco quindi in fase di caricamento scegliete la voce non in elenco e lo lasciate lì anche se il canale monetizzato non succede niente non abbiate paura il link me lo manderete all'indirizzo che sta passando in sovraimpressione come ho detto l'ultima volta comunque leggete la descrizione perché tutto trovate qua sotto nell'infobox dimenticavo la durata massima durata massima è di un minuto ma comunque si fa in tempo a fare gli auguri buongiorno ciao Ezio come stai questo e quell'altro eccetera eccetera auguri di buon natale felice anno nuovo l'importante è che sponsorizzate il vostro canale insomma un canale youtube così così eccetera eccetera secondo argomento asmr allora d'ora in avanti nei video asmr siccome ho avuto parecchie la mentale va bene ci sta le accolgo molto volentieri non metterò un solo punto di pubblicità nei prossimi video asmr quindi all'inizio e basta vedrò anche di risistemare i video vecchi perché devo comunque andarle a rivedere e togliere i vari punti eccetera se riesco a farle comunque mi impegnerò appena un po' di tempo vado a risistemarle detto ciò vi mando un abbraccione grandissimo un saluto e al prossimo video